papà 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 vedo se sono in live sono in live si siamo in live siamo assolutamente in live secondo che accedo eccola eccola trovata bene, ho la chat dal vivo allora questo è Among Us ovvero se qualcuno di voi ha Among Us me lo dica però facendo le live giocare online ad Among Us è un po' difficolt e vi spiego il perché è subito uno spettatore perché uno vede che si sia assassino cosa vabbè bella raga comunque siamo su Among Us e sono questo Elvis azzurro cosa strano dobbiamo aspettare il matchmaking ora dovrebbe partire perché siamo in dieci li dico anche di startare del frastart ecco lo dico in tutti e il paninaro dei figli bella bella ma da quando sei su Among? ho fatto un video ieri e basta l'ho appena scaricato mi piace ci sta poi ho avuto un bel successo nell'ultimo periodo se sono l'impostore sono felice pronto schermo tutto bene aspetta un attimo forse ora mi dice che mi caccia se mi caccia giuro che che cosa sta succedendo siamo in due cosa devo riacci l'arretta è una liscia boh è perché Among Us è un gioco è pieno di giocatori di Among Us ovunque c'è Among Us che vale o quasi mi viene voglia di giocare a quello con i gatti spastici fatemi sapere se volete quello con i gatti spastici così ci gioco anzi io lo creo proprio facciamo questo qua questa mappa che non l'ho mai provata e giochiamo in 8 quindi se avete un link mettiamo pubblico e se avete un link potete venire allora mi metto bianco come cappello uso questo qua del tema questo è figo sembro tipo aspettate è troppo trash io uso questo subito yeah sono un fenicottero che bello evviva speriamo entra qualcuno lo picchio yeah sono solo mi nascondo non mi vedrete ho cambiato mappa polciapicella polciapicella quando è che vieni ciccio pastoccio qualcuno può venire un giocatore a caso che scatole perché se mi unisco agli altri serve il lag speriamo che almeno così no e poi diamo un gas meglio farci video facendoci video puoi giocare con i tuoi amici che non vedono se si assassino o no e possono anche vedere dove sei i tuoi amici in una live un video normale invece no eh best nascondiglio peccato che sbuca il fenicottero sono stramimetizzato qua non mi vede nessuno yeah posso anche vedere le impostazioni sì però io mi sono rotto aspettate un attimo io mi sono rotto di among us dai oh dai sono viola va bene aspetta che cambi un attimo ok è venuto uno mi metto arancione o verde no arancione anzi no verde verde è più bello oh e ora e ora io faccio il mio resto eh sto facendo una diretta con i miei amici ciao nonno ok così non disturbo oh che bello eh sono un impostore eh ciao amico yeee allora io aspetto che se qualcuno resta qua ecco andiamo qui andiamo qui quando ho riportato un corpo sono fregato ho fatto una cavolata vero sì ecco sì esatto voto sempre qualcun altro che non è un mio amico io voto questo qua che cacchio è successo? che è uscito? ah niente due impostori ci siamo salvati così proprio cioè ma veramente aspettate che mi metto a sabotare il reattore oh sì va tutto secondo i piani io tornando qua no c'è il mio amico furbo è furbo il mio amico è furbo aspettate che entro e vado qua poi esco poi esco il mio amico è stato stupido ha ucciso qualcuno? ha ucciso qualcuno il mio amico? che ha detto? cosa che ha detto? ma voi in che lingua parlate che sono in un server europeo? va bene tutti che votano io voto yes ciao sì si buttano fuori il mio amico mi offendo malo idk scusate un attimo ma la gente sa parlare per caso eh lo chiedo proprio così per sapere ma almeno in inglese do you? do you? aspetta do io spera ho anche sbagliato a scriverlo che succede? oh abbiamo vinto evviva hanno buttato fuori qualcun altro non lo so ma l'importante è che abbiamo vinto yeee se ne frega che mi arrivano i copyright oh ciao uvzu aspetta che mi cambio il colore ah è bello così il cappellino mi metto questo qua da militare eh il pirata e il ninja uh sono un cinese yeee ho il coronavirus aspettate ecco ora sono un cinese ho il coronavirus yeee ve lo attacco sono usciti tutti pezzi di erba era bello essere cinesi vabbè esco debassi dai facciamo debattoli eh siamo in tre siamo in tre raga siamo in tre cacchio vuoi tu levati facciamo debattoli giochiamo con i gatti spastici contro l'ipopotami obesi che è più bello e poi dobbiamo riscuattere i primi giornalieri e se ci danno qualcosa di carino noi spacchettiamo yeee facciamo questo qua e ci dovrebbero dare allora iniziamo un ticket normale giornaliero poi un bonus va bene del cibo del cibo per gatti basta così va bene almeno una capsula eh gammatotto possiamo levare a parte amico dimmi che posso levare a parte se livello con quale espressione serie non me lo dici frate ma guarda che ma guardati ma quanto fai schifo aspetta che ti mando qua ah no devo avere il rank 600 vabbè allora ti faccio ma aspettate un attimo così a me è bello eh ecco così no ecco così è quello originale è bello poi così è quello secondario così è il terzo e poi c'è sto qua io non lo so vediamo un po' ototo c'è gammatotto e ototto qualcuno che non ha una otto ecco ciao ototto ecco e andate tutti a fanotto ti mando intanto qua in Egitto tra sei ore ci vediamo frate e ci apriamo una capsula di gatti spastici ciao no troviamo un gatto pesce cose che succedono tutti i giorni vabbè dai non voglio potenziarlo il gatto pesce perché ce l'ho già però io mi prendo con questa cosa brutta dell'esperienza perché il gatto pesce manco lo uso perché mi fa cagere mi fa cagere allora allora con chi testiamo i gatti intanto voglio mostrarvi tutta la mia bella collection di gatti eh il gatto mela non vi ho fatto vedere eh ma guardate quanti ce ne possiamo fare di inventare il gatto moneta il gatto moneta il macho coin cat cioè il coin cat e il macho questa è l'unità più potente del gioco ve lo giuro è l'unità poi il gatto mela che l'avevamo trovato è un super raro eccolo qua apple cat e ce l'ho anche andiamo anche un po' a potenziarlo è forte è molto spastico è molto verso among no no frate ci sono già andato è stato rompimento ecco prendiamolo un po' facciamogli su due livelli quasi tre e facciamoci una partita a dubai distruggiamo il bugi califo e ma il live su among è troppo facile per te giocare ecco il coin cat tipo il gatto di base costa anche come il gatto di base scusate ogni tanto mi parte il momento di risata e fa danni come quello e quando sconfiggi un nemico ti da un botto di soldi gatto guardate che bello attacco dai gatti con il corpo forma di moneta stanno picchiando dei cani spastici cose che accadono tutti i giorni anche i serpenti facciamo un po' vedere il resto è un esercito che stanno facendo oh cos'è? siete più dei cinesi? quanti siete? allora il gatto mela il signor gatto mela appena può eccolo poi vediamo com'è sott'acqua eh intanto vediamo come va di qua eeeh state facendo i big dan mozzi ma frate vacci piano gatto mela ti avvicini? siete pronti a ridere? eccolo eccolo qua il gatto il famosissimo gatto mela gatto mela ma siamo in serio? tu apri una mela e ti metti a sculettare va bene ma dai ma cadono tutti i giorni gatto spastico in motocicletta evviva che lello no un'altra mela eeeh pinguini obesi non avete speranza contro le mie mele forti più o meno che sono forti più o meno eeeh ma sono dei rompi i serpenti e il resto delle cose vai motociclista eeeh bravo motociclista uccidi i pinguini obesi seeeh e ora un gatto titano e sua maestà un ciccio pastoccio brutto che funziona intanto qua continuano a sculettare i gatti e a tritare male come se non ci fossero domani mmm 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 signore questo è il gatto kung fu master ubriaco si chiama proprio così eh va bene riceviamo un bel premio ok aspettate un attimo mmm tuttum 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 aspettate un attimo c'è un mio amico che mi chiama alassan un attimo sai st su ti no è che è pensare un attimo è ma pulizzo guarda bella frate un attimo si frate sente male aspetta che vado su amongas perché dammi il codice bella c'è un amico sta creando un codice su amongas possiamo giocare peccato che però non guardare la live mentre giochiamo ad amongas perché se non mi sgami se sono assassino maledetto vediamo se c'è un codice così lo considera le moto pronto c'è qualcuno no c'è nessuno ah ecco ci sei frate l o r e ok xv o x u ok aspetta ci riprovo aspetta ridettamelo tutto v v x ok oh ok 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 bella raga un attimo c'è un amico che mi dà il link di Among Us tanto provo le peggio skin ci sta è entrato qualcuno sei te bella frate dobbiamo aspettare uno alas bella se qualcuno ha Among Us non esiti ad entrare io sono il ninja viola se no mettiamo pubblico così è più easy entra la gente eccolo qua è una sala youtuber anche lui youtuber è nato è una sala lo sfiga il forsuto dopo abasket mi sa che mi meni bella la compagna dopo ti stoppo te lo giuro ti stoppo mi viene voglia sono un ninja mi muovo lento ciao ma su Miriam come va ciao sono ciao così capisce che siamo italiani il vero sigillo italiano è questo pizza è entrato un altro pasta mandolino maffia mamma mia oh parola d'ordine yeah ah è uscito uno peccato era così giocane almeno i sei se puoi defare uh siamo in cinque possiamo fare start vabbè dai facciamolo in cinque tanto è easy peasy comunque oh bella fra shhh ok sono un crew mate quindi ala se sei un assassino ti uccido quello si chiama uccido va bene ok intanto vediamo dove sono gli obiettivi nella navigation ecco che non allontanarci troppo ecco può sbucare eh no mi uccide ecco quello uccide sospetto uccido eh siamo tutti uccido è sospetto è sospettissimo uccido ala sei un assassino scrivimelo in chat di però porca miseria ha sabotato ha sabotato assassino abbiamo vinto abbiamo vinto non ho capito ok non sono assassino ok porca miseria se mi arriva il copyright faccio anche il il lo sponsor a facebook se mi arriva il copyright giuro che ve lo sbatto in faccia oh ender kill bella ci sono troppo poco etero sta skin giochiamo a lupo ti ho preso che bello ora scappo vediamo se mi prendi oh oh mio dio stai un po' laghicchiano è entrato salve anche a te salve anche a te amico evviva aspetta che ti mi inglobo in te siamo un po' brutta oh siamo inglobati ora sembriamo una persona prima gli italiani belle frate siamo tutti italiani qua tutti che parlano italiano tranne te salve no te sei italiano mi dispiace quando è quando è quando è quando è quando è che potremmo fare start eh bravo eh è entrato uno è entrato un altro no aspettiamo che siamo in sei ok ora 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 assolutamente zoccamato poi scrivo anche youtube mi faccio youtuber vabbè sono un crewmate quindi non sono io l'assassino devo solo fare il mio dovere un po' paura di quel tipo allora qua nelle armi non niente mandate ecco alassan maledetta intanto io gli faccio gli obiettivi pezzo di erba guardalo come mi killa guardalo come mi killa non mi dovevo fidare maledetto mi vendicherò non in live perché saprai che sono un assassino e mi segnalerai ciao salve fare gli obiettivi io sono assassino tanto io sto andando a funghi devo fare gli obiettivi ciao curie lo stai già facendo non sei capace to te l'ho fatto io questo qua nel o2 eh ma non siete capaci di farli to non ci impiegate un cac e dov'è che è sabotato e almeno non posso i sabotaggi ecco hanno trovato un corpo votate assolutamente alas 20 porca miseria io parlo con i morti perché perché è nero io rincaffetteria a fare la tasca tanto non li leggo nemmeno che usano i cittadini ecco non muore nessuno pareggio continuano a inviare i messaggi fare cucù chi è che rompe i cucumeri niente la mia classe facciamo questa task che sono le più easy poi ci sono anche i mini gio ma porca miseria votatelo votatelo è il bianco di sardegna il bianco di sardegna no il bianco chi è che rompe ma non pagani io non posso votare ovviamente but un altro pareggio evviva i e alassan fate il furbo e non porca miseria chi è rimasto un impostore che è sempre lui ah che soddisfazione via stupide foglie poi andiamo qua vediamo cosa c'è ok poi andiamo dove qua sotto vediamo cosa c'è qua una leva altre foglie un diamante no un diamante mi dispiace diamante o eri cinese ti tengo un totem vabbè non ecco ha vinto ha vinto ala però sono rimasto malerio voglio salvare il diamante anche il totem yeee sono un bambino bravo gay vestito rosa gay nella realtà no in questo gioco si metto blu sono hit anzi sono un cocomero con in testa uno sturo accesso e sono anche del colore ecco è troppo cringe però è figo no perché uno ti vede uno però ti vede se sei la sostino anche se scatti oh uno con una banana in testa ma buongiorno ala non c'è ala porca miseria uno che si chiama pro e uno m eccolo no vabbè siamo in sei giochiamo ala dov'eri va bene dai su giochiamo io sono una ma veramente bro sono una una shoot io ok ok sono un crewmate quindi facciamo gli obiettivi allora qua nella naviga e non mi fido di te io voto il rosso anche di sospetto eccolo ma perché perché devi mettere il tasto coso brutto d'emergenza brutta cattivo voto nessuno ha votato pareggio ecco infatti un impostore tanto che non so manco quanti sono quelli qua però facciamo il download che palle perché perché gli impostori vincono sempre cioè non capisco oh uno che mi vede lascia che mi confide mio amico yeah mi sono già rotto torniamo qua oh adesso si ragiona attacchiamo l'italia no l'egitto no è brutto ma quante hotbreak ci sono attacchiamo il coronavirus andiamo in casa del coronavirus per giocare devi stellare ah ok oh buongiorno signor coronavirus io le scrivo un'unità che le farà fuori tutte questo un gatto minatore yeah che one shot alle minimità e costa anche pochissimo costa 300 e one shot attenzione one shot guardate cosa one shot alle pam e ci muore facile no così pam e ci muore e ci da anche i soldi pam e ci muore e ci dai soldi pam e ci muore cani e e cos'altro vabbè non lo so è tutto quello che avete siete tarsi io con questa unità vinco anche con quella di voi noi se vi installiamo non possiamo giocare però è meglio farlo in un video io uso il cannone a caso è meglio farlo in un video perché se no mi vedi se sono l'assassino e ti voglio uccidere poi mi voti ecco abbiamo vinto ma aveva un cacchio di vita sta vase dai no risparmiala fai attaccare lui fai attaccare lui yeee abbiamo vinto grazie a questo attacco per faigo evviva che bello il coronavirus è facile da sconfiggere lo dimostra anche questo gioco demente andiamo in africa ciao kenia che sei sotto la scena eh un leone adesso c'è il leone non c'è però non c'è il leone in sto gioco lo spoiler io uso la mela la mela de apple rispondi mi rispondi si si per giocare si devi installare among us si e anche discord se vuoi giocare ad among us no si ma la smetti di fare il game di fare il game mela cosa per giocare ad among si però battle cast non è online quello sarebbe figo fosse online tipo fare i tornei cose del genere l'assalto di mele qual'è come one shottano sono OP queste unità oh sculettate sculettate brave mele e ora una gang di motocicli evviva che lello porcello ho detto lello ed è uscito lello il porcello quello velello quello vero porca miseria brutto porcello quasi l'ho one shott quel porcello maledetto ora evoco un gatto kung fu ubriaco tra l'altro e il porcello è morto grazie al lupo lo facciamo in chiamata ok perché mi devi spiegare come si gioca ok easy peasy se vuoi ora chiudo la live ci giochiamo anche senza se no faccio un video in chiamata così ci sta però intanto facciamo l'ultima partita prima di chiudere e andiamo in a las vegas a incontrare il nostro amico orso yogi bu 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 dov'è l'orso yogi ah se ne deve ancora spawnare l'orso yogi bu 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 appena lo vedo lo massacro male buongiorgio io mi metto qua spawnare le genti e voi ci morite ma guardate tutti che puntano al casino sull'orto poi ci morirà malissimo pam e ci schiatta i pel velocemente pam e poi i pam di brawl stars e un altro e uno stickman con un mitra ciao stickman vai a sparare tutti bravo e guardatelo quanto è OP e guardatelo guardatelo gli stickman come li fa fuori sono i suoi fratelli quelli stupidi eccolo qua l'orso yogi bu 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 distriamo un po' l'orso yogi bu 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 e poi andiamo a pusharlo guarda il minatore che danni che gli fa bene spawniamo un'ita leggere leggiadre e leggere aia ma sopravvive all'attacco dell'orso che è una sventola pazzesca vai titano boom l'orso yogi bu 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 morirà beccati questo l'orso yogi bu 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 dai poveri e un altro colpo dai non morirci bravo un altro un altro un altro si bravo motociclo è arrivato il motociclista lì il soccaio e adesso possiamo vincere spawnare gatti deformi poi vado con Noè a fare una partita di Among Us gli spiego come si gioca tanto è facile io non lo sapevo ho fatto play ho capito la prima partita è easy oh si doppio titano doppi cazzottoni installato bella frate tanto è già tutto quasi tutto su Among Us mancano i pet le spine ma qua lì non servono a niente pom guarda lì guarda lì boom e il casino è it's die and I close the live now ciao 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 ciao